Vada, vada, vada. Tutto il bello dell'acqua. Alla lavagna, alla lavagna. Scusi, Rezia Zecchini, scusi, ma dove stanno le maldite? Cercavo di Fuji, la mia isola delle maldite. La sua, scusi, è Fuji? Di Fuji. Di Fuji, di Fuji. Eh, lei l'hanno strappata via da Di Fuji e l'hanno portata qui a Roma, vicino alla casa e in piscina per fare un'immersione di foto. Mi hanno detto che lei è bellissima. Lo vedremo? Lo vedremo. Lei si è emozionata? Un pochettino, mi trovo più a mio oggi nell'acqua. Sì, ma comunque voglio dire, queste foto sono state un'immersione nel glamour. Bellissime, veramente belle. Piaciuta, eh? Sì. E a chi vogliamo ringraziare? A Christian. A Christian, no, scusi, eh. No, ma dico. La federazione, il fotografo, Emiliano, tutti quanti. Sì, a tutti quanti, la federazione, la pizza. Tutti, 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 tutti. Ringraziamo tutti quanti. Con tutte le belle, io metterei, tutte le belle dell'acqua. Sì. Adesso va a farsi una nuotata. Ma adesso vado magari a mangiare qualcosa. Ah, porchetta, no. La riccia. Ma no, ma lei con questo fisico come fa a mantenerlo così, ci racconti? Perché mi allena un sacco. Ah, ma non basta solo quello, scusi, eh. No, bisogna mangiare bene. Senta, ma ultimamente quanti metri ha fatto su e giù? 104. Andata. Andata. E in ritorno? Pure, in genere si fa la stessa cosa. E quindi, insomma, voglio dire, è un calcolo complessivo tra allenamenti. Ma quanti migliaia di metri di profondità mi fa l'anno? Ma da di profondità, magari non tanti, ma di orizzontale va vecchi. Non dico in orizzontale, nel senso, lei nuota? Nuoto in orizzontale in piscina. E cosa fa, ad esempio? Nuoto per 5 chilometri in superficie, tra superficie, un po' di apnea sott'acqua. Quindi respirare sempre il meno possibile. Sì. Controlla l'alimentazione, un po' di tante, come dire, ahum, faccio, scusi, ahum, ma mi spiega una cosa. Perché sei messo il tacco a spilo? Scusi, eh, scusi, eh, si è voluta elevare un attimo? Questo non era previsto. Non era previsto, eh, sa che, sa che con, che con su Invis, con i flash acquatici, noi se ne combiniamo di tutti quanti colori. Ma i cazzini con i tacchi così non erano previsti, è tutta colpa tua. No, 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 lei è bellissima. Comunque, beh, allora aspettiamo di vedere, anzi, le stiamo vedendo, questo è solo un backstage del backstage del backstage del backstage del backstage, che lei ha fatto con la sua collega, ricordiamo, Martina. Martina, buongiardino. Che anche lei, insomma, voglio dire. È venuta benissimo. È venuta benissimo. Come si dire, è il prossimo? Il prossimo record, magari, perché... Il prossimo shooting, ok, però... Il prossimo shooting, il prossimo flash acquatico. Flash acquatico. Con su Invis. Dove lo prevediamo, il pro... Tanto va? Colombia, San Andres. Quando? Maggio. Si è battuto bene l'operazione perché mi devo operare a presto. Ma facci vedere, scusi, che è successo? È andata bene, però non è andata così bene. Si è spostata un po' la vite, perciò vediamo un po' come andrà. Va bene, mettiamo a posto le viti e andiamo giù. E andiamo. E andiamo giù al prossimo record, mi raccomando, eh. Si porti dietro il palloncino di Swimbezi. Certo. E devo cercare ancora l'isola. Alla prossima. Ciao. Baci, baci, baci.